I figi potevano venire in chiamato e invece non sono venute e io dico, e non va bene, non va bene, no, Clutermanet! Sicuramente ci saranno stati, ma cosa ne pensano i loro genitori che fanno le zoccole? Anche uno che fa un termenetico. Annihilì l'ape, è stato banneto eppure l'avversario lo gioca e non è giusto. Vai Grafaiai, scelgo te. Sto giocando in Uber, infatti c'è Grafaiai, l'unico vero counter di Misdrivas. Ah, Flutermany! Sì, quello lì. Flutermany! Flutermany! Flutermany enters the field and clicks Psicosciocco. Clots nya non esplode in un colpo, ma il 90% se l'ha preso, certo. Fluttermanet, takes the king, agency, agency. Secondo te non devo mettere un terra normale per battere monogono? Ma secondo me puoi metterlo un terra normale. Potto e chiede. Dimmi poco. Secondo me a un stone stesso può averla. Perché tanto fa già un botto di danni, non è che ha bisogno di una terra per farne di più. Ha una botta normale nel caso per abusare. Ma che se ne frega, è per essere umani a spettro, non per abusare. Tanto non ha mostro utile. Play Raw, Shadow Sneak. Ma tu pensi che premerai qualcosa di diverso dalla Stress Pack? No, non vorrei avere la possibilità nel caso. Gli dai Play Rough, Shadow Sneak e Trick. Se vuoi bloccare qualcosa con una Scarf puoi farlo. marzo. E' anche se non c'è un'altra cosa! E' lì, e' un po' Brutte Monet è un nome da bimbo minchia totale, proprio come l'Armata dell'Arcangelo Misdrivas. O un gabungus chiamarlo Brutte Monet. Certo, Emo è il suo narcisismo patologico. Ma cosa ne pensi invece di l'Armata dell'Arcangelo Misdrivas? Che cazzo vuol dire l'Armata dell'Arcangelo Misdrivas? Questa dovrebbe rappresentare... Io devo vincere una Spitfire. No, non la vinci. Devo vincere, se no ho perso. Devo vincere. Ho detto che devo vincere. L'ho vinta! E vai! Esuca! Evviva! Questa è la host della vittoria. Flutte Monet. Comunque Fist Def Bramblegast Counter a Great Tars, che incredibile. E non credo che qualcuno ha giocato ragazzo. Perché? Nessuno porta lotta a terra? Oh, niente. Cioè, Drittas che è uno dei Pokémon più... ...drippanti di sé. E basta con sto Palafine. Perché io... Sto troppo. Chissà se Palafine è forte in Uber. Chissà se è in Uber. C biopetta che ce l'hai tirare nel dرا. parte e poi... Terremoto! sdrenghermoto! chi sa sei in Uber? Eeeh secondo me in Uber potrebbero anche darle gli heavy duty boost ma lei se li toglierebbe perchè come fa se no a far vedere i tiri? C'è un problema qua, Corvinite, è incredibile come il mio Team Sun non abbia counter di Corvinite a livello di scambio, però Corvinite ha Drill Packing anziché, incredibile. Vabbè, se non hai scambi fa danno, cioè. Tutti bravi a fare gli scambi col culo degli altri, insomma, ecco. Beh, ma alla fine, cioè come cazzo fai ad avere problemi contro Corvinite? Oh, Tinglu si è fatto prendere il 53%, bello, molto bello. Tinglu comunque soffre perché non ha una recovery. Secondo me gli dovremmo dare... comunque... Leech Seed... Ma io gli darei Show Up, certo, perché comunque è un tipo Terra. Eh, ma poi gli darei anche Leech Seed perché... No, omisclique, omisclique. A Terra con i suoi frutti napoletani. Poison. Basta, non mi piace più questo gioco, me ne va. No. 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 No.